Era bravissimo, era grande, era proprio bello la serie, come la faceva, era proprio bravo e bello. Purtroppo è una grave perdita, ho visto un paio di puntare della serie, mi è sembrato un bravissimo attore, poi era un attore italo-americano, quindi dispiace sempre quando eccellenze che, tra virgolette del made in Italy, scompaiano prematuramente per un infarto, come è successo a Bandofini. Io non voglio essere licenza, va bene, l'importante è che non la faccio io. I didn't like his movies he was in. ma io vedo che è morto, e è morto in Italia, e c'era un attaccato, e è 51, e io sono 47, quindi ho pensato, che è molto vicino, quindi potrebbe vivere ora. È sad che ho passato, ma non ho capito che era qui, in questo hotel. Sì, non ho capito, non ho capito, non ho capito, non ho capito. Quando abbiamo ascoltato, stavamo dove è passato, ma non ho capito che era qui. Ma io piace il lavoro, è davvero triste, è stato molto piccolo.